malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene oggi torniamo a fare un'analisi panoramica della situazione economica i dati del pil cioè del prodotto interno lordo del secondo trimestre del 2023 e sull'inflazione che si è registrata a luglio nell'area euro confermano le tendenze già in atto si è registrato cioè un rallentamento totale della crescita in particolare in alcuni paesi dell'area euro con italia portogallo che hanno segnato una forte diminuzione trimestrale la germania beh la germania continua a lottare con un pil stagnante a causa della difficoltà del settore manifatturiero tedesco la spagna invece ha mantenuto una solida crescita trimestrale e la francia ha sorpreso positivamente grazie ad esportazioni e investimenti aziendali per quanto riguarda l'inflazione il rallentamento dei prezzi dell'energia è stato compensato dalla componente alimentare dalle utenze dai servizi in particolare nel settore turismo dove i prezzi sono andati alle stelle mentre l'inflazione si posiziona generalmente al di sopra della media generale che avevamo conosciuto cioè la l'inflazione core quella dei panieri dei beni più tipici comunque ancora troppo alta lagarde ha sottolineato che anche se si decidesse di fare una pausa a settembre non sarà necessariamente uno stop definitivo perché ci sarebbe da parte loro preoccupazione per la possibile ripresa dell'inflazione dopo il rallentamento degli ultimi mesi che però come abbiamo visto è a macchia di leopardo l'italia registra questo è il dramma una netta diminuzione della domanda interna che ha contribuito al rallentamento senza equilibrio diciamo nelle esportazioni nette sul fronte dell'inflazione i servizi potrebbero frenare ancora la riduzione della componente core aprendosi così all'ennesimo aumento dei tassi entro la fine dell'anno intrappolandoci cioè nei meandri della recessione per essere più precisi io penso che stiamo parlando di stagflazione una delle situazioni economiche peggiori cioè un'economia stagnante in presenza di inflazione cioè prezzi che crescono per errori della banca centrale europea della commissione europea dello scenario internazionale ma una domanda che non c'è cioè la gente che non compra e non porta avanti le esigenze delle imprese ma noi abbiamo una classe politica che continua a pensare che grazie ai meravigliosi introiti del pnrr e ai regali di bruxelles usciremo da questa situazione come avrete intuito chi mi conosce da qualche anno sa che io non penso che quella sia la soluzione dobbiamo tornare a parlare di industria di imprese di agricoltura di servizi e meno di burocrazia europea anzi facciamo una cosa cancelliamo la propria malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene